E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi riprendiamo esattamente dove ci siamo lasciati l'altra volta che dobbiamo fare questa quest maledetta dentro Western Plug Lens Registro questo video esattamente dopo aver visto praticamente tutti i video fatti dalla Blizzard negli ultimi periodi, negli ultimi giorni E quindi con un hype mostruoso addosso Ho già visto che tantissimi video americani hanno già portato video di qualsiasi tipo, su qualsiasi contenuto E' una cosa che mi ero prefissato di fare anche io, magari di fare qualche video non informativo Comunque mi potesse far capire qualcosa di più rispetto a un semplice filmato della Blizzard, ecco L'unico problema di questa cosa è che ovviamente tutte le informazioni che ci sono in giro sono assolutamente in inglese Quindi per andare a capire magari un testo di tre pagine ci metto il quattro volte dando uno che è inglese ovviamente Ecco perché loro riescono a fare sempre tutto prima di noi E comunque richiede un lavoro non indifferente perché non è un video gameplay semplice C'è un video informativo tipo guida, il che è molto più complicato da fare Ma è una cosa che voglio realizzare per forza Perché mi sta sulle palle questa cosa che noi italiani non ci dobbiamo mai avere un video simile Tanto qui non lo so, mi stanno addosso in 350 Ma noi siamo forti e cagliamo in testa a tutti Ovviamente la nostra instance è sempre gioinata Voi vedrete questo video martedì, sì martedì E io invece lunedì, cioè ieri per voi Avrei teoricamente dovuto fare una live, no? Spero non teoricamente ma che la farò veramente Perché devo mettere a posto delle cose tipo il fatto che non mi si senta l'avio del gioco Non so per quale cazzo motivo Si sente solo l'avio mio del microfono e basta Ma l'altro giorno avevo messo delle musichette, delle cosine carine, no? Per fare atmosfera E non ha funzionato un ca Ok, questa missioncina è andata E adesso dobbiamo raccogliere praticamente delle cosette qui Allora prendiamo l'ultima Che dovrebbe essere questa se non sbaglio Esattamente E andiamo a consegnare Però queste queste non mi piacciono tantissimo, eh Perché sono singole E ti fanno perdere un sacco di tempo queste cose per raccogliere la roba, eccetera Non sono queste che permettono di livellare molto facilmente, ecco Vediamo se il nostro caro, la cara tizia qui ci dà qualche quest più carina Oh ma che cazzo è che mi rompe le palle? Ma levati dal cazzo Taccanisci Che è sta roba? Vabbè, ho io completato tutto Va benissimo Cioè l'utilità di questa cosa Spendere 25 volte per un cazzo in niente E poi ci scrivi Hey, it's still a diamond Te lo teni il diamond, zio Namo Ah, ci hanno chiamato per... Nistans, esattamente Mentre noi stiamo su sto carretto Io non vorrei che appena premo accetta Questo mi si bugga e tipo Non riesco ad andare sul territorio nuovo Ah no, non lo fa entrare e basta A posto Perfetto Scompetto che ci faranno arrivare qui, guarda Oh, casualità Dai, fatemi scende Andiamo subito nel party Ma non mi pare che mi ha chiccato No, che coglione Altra volta Tira il maul Schifo Ah no, per il west, ok Almeno la parte nuova Raggiungiamo subito velocissimi i nostri amici Sicuro che mi becco La ronda che va in giro E moro, guarda Dai, non dovrei C'ho pure lo stilt per fortuna Dio Cristo Io non mi ricordo mai un cazzo su quest'instance Dove si passa Guarda qui stanno ammazzati tutti Vabbè Perché quello è un piano di sotto Però Io non so come cazzo ci si arriva Là ci stanno le scale Sì, sì Bisogna andare là Sto seguendo la scia di mob morti Ma Non è così semplice Anche perché non li vedo manco più Io sto continuando a livellare a cazzo E però Visto che ci stiamo Andiamo a continuare questa quest E via Sì, mi butto Eccoli, eccoli Sì Finalmente mi sono ricongiunto Ai miei Alleati Cazzo Alleati Ah questa è la parte iniziale Tac Infatti pensai che il titolo di questo video sarà Scroccare Scroccare esperienze in istanza parte 2 Ehi, ehi È un aggrado mezzo mondo Allora parte non è finita Ma non so Io proprio con quest'instance Non la faccio tipo a 20.000 anni Cierelle Non Mi è arrivato un invito a una città a caso E grazie mille Perché così eviterò di avere semplici di infiniti Ah è necessario Per chi non avessi mai fatto questa instance E guarda questo video Ammazzare tutti i mob che ci sono intorno Ma veramente tutti Perché se no non mi si leva questa barriera blu intorno Non mi fa accedere all'ultimo boss Quindi dovete per forza fare tutta questa pugnetta che stiamo facendo noi Oh ecco Fino a che non escono fuori questi tizietti che urlano E vanno a morire Verso questo dragon coso qui Questo cane Adesso muori merda E ciao Siamo livellati? Sì Bene bene Ma a quanto pare non è finita Perché ce n'è un altro ancora Di cui assolutamente non mi ricordavo un cazzo Vi ricordate quando vi dicevo Magari un due o tre video fa Che inizia ad essere un pochino più difficile livellare Nel senso che se io non ci spendo tempo Off camera Risulta veramente più difficile livellare Perché ecco Magari in un instance Che due o tre queste Faccio un livello Un livello e mezzo E capite che il contenuto di un livello Un livello e mezzo È praticamente lo stesso Quindi dovrò alternare i video di leveling Con un'altra roba A meno che non mi metto a fare Livelli off camera O in live Che è una cosa che Invece punterò a fare stasera Ieri sera per voi Scusate Oh via Anche questo Ce lo siamo tolto dalle palle Adesso dovremmo esserci Dovremmo esserci giusto Allora una E allora due E allora tre Che tocca arrivare là Che coglioni Però quella che dà più esperienza di tutti Vaffanculo a lei Oh cazzo A grado Sarebbe un vero peccato Se venisci sciottato lo stesso Tutto i lit di merda eh Mi spiace zio Ma qui si sbatte male Ciao Ok E tre Non sono cinque mila esperienza Ma vaffanculo Vabbè Noi intanto Che arriva il tank Ci facciamo un paio di distance qua Sì Sbaglio di quest Ah rimanete fino alla fine del video Perché ho intenzione di fare una cosina Che sarà carina e divertente Ah sapete che vi dico Ci andiamo adesso a fare questa cosa Andando che aspettiamo l'instance E voi mi direte Ma che cazzo S'è andato a fare Underseddy Adesso ve lo dico Sapete se uno deve fare Underseddy Assolutamente un cazzo Perché io sembra Cercavo quello lì Per trasmogrifica Ma Porca puttana Ho scoperto che sto solo Grimmar Or Grimmar Porca porca Una porca Puttana Porca puttanella Porca porca Allora Per voi Come l'altra volta Sono passati solo due secondi Per me invece Sono passate due ore e mezza Due ore e mezza no Ma poco ci manca Perché praticamente Mi sono teleportato Underseddy Ho cercato Sto cazzo Di tizio Ma niente Non l'ho trovato Quindi mi ha toccato Rivolare qua Che sta dall'altra parte La terra Nel frattempo Nel frattempo i nostri Stronzi Alleati Del party Ci hanno mollato No no Più luce per favore No più luce Dai più luce Vabbè niente Gesù Gesù ci sta chiamando Dicevo i nostri compagnoli Qui ci hanno mollato Come potete vedere Quindi lì a coda È ricominciata da zero Dobbiamo sterminare Un po' di butt Cioè questi pipistrelli Bruttissimi Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici E tredici One shotato Allora a questo punto Direi di andare un attimino Qua sotto Mi sto andando Invece di consegnare Direttamente la quest Perché consegnare la quest Sola Secondo me non c'è Un cazzo di senso Riferisco farne di più Come ho fatto In un paio di episodi fa E poi consegnare Tutti insieme Che è anche più soddisfacente C'è 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 E tu chi C'è Sei Addirittura due questine Ci dai Tutto tu sei Cioè ammazzare solo Questo Anterino Che c'ha Una spada Impiandata in testa Ciao caro A fare questione Di serie va Tipo Prendere la testa Di qualcuno Ah Eccoli Zalandari Zandalari Anzi Che saranno Molto Molto partecipi Beh andete in realtà Saranno molto molto partecipi Nella prossima espansione Effettivamente Perché saranno Una vera e propria Razza Da poter prendere Però la differenza È che questi sono morti Ma va però Il dettaglio Futilissimo L'istanza Qui non se ne parla Sempre con questi Cazzo De tank Indrobabili Allora Tanto consigliamo Questi Paio di quest Che male Non ci fa Va Sempre qui Gesù Ci sta Anzi Mi ha avuto Schioppo Non penso Infatti no Easy Allora ragazzi Per questo video Ci fermiamo qua Però mi raccomando Seguite questi giorni Perché ci saranno Dei video un po' più particolari Spero di riuscire a realizzarli Riguardo l'espansione Visto che stanno tutti In hype Per quello E non posso Non caricare niente Riguardo Quindi noi ci vediamo Nel prossimo video Come sempre Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti